Ciao, oggi vi faremo scoprire Alleghe, un'incantevole cittadina del Bellunese ai piedi del Monte Civetta. Alleghe si trova a un'altezza di circa 980 metri e l'attrazione principale di questo luogo è sicuramente il suo caratteristico e bellissimo lago alpino. Nelle cui acque che hanno un colore verde smeraldo si riflettono le cime più suggestive, più belle delle Dolomiti. Il modo migliore per ammirare il lago di Alleghe, le magnifiche montagne della zona, sicuramente fare un giro a piedi lungo le sponde. Si tratta di una camminata facile, abbastanza lunga, di circa due ore, però il terreno è pianeggiante quindi è molto facile, adatto a tutti, anche ai bambini. Il percorso comprende tratti su strada asfaltata e poi sterrata e anche una parte di sentiero nel bosco. Non c'è un punto di partenza preciso, si può iniziare dove si vuole. Comunque lungo il percorso trovate diversi bar, punti di ristoro e anche aree picnic per fare una pausa lungo la passeggiata. Il percorso è molto bello, sicuramente adatto a tutti e non presenta quasi nessuna difficoltà o particolari distrivelli. Poi che dire, il lago d'estate è navigabile, è possibile noleggiare i kayak oppure i pedalo per fare una passeggiata sul lago. Ma dalle che ci sono diversi parcheggi, tra cui uno sotterraneo, quindi non c'è problema per lasciare la vostra auto e partire poi dalla scoperta del lago e partire per una passeggiata. Buona visione! A presto! 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 A presto!